Ciao a tutti, ho acquistato questo oggetto per bicicletta, monopattino e automobile per gonfiare le gomme. Ho scelto questo perché a differenza degli altri non mi sembra un giocattolino, infatti è abbastanza consistente sia il peso che anche la qualità dei materiali mi sembra elevata. Comunque senza anticipare nulla faccio vedere che arriva in una bella scatoletta, queste sono le caratteristiche, ovvero ha una potenza di gonfiaggio di 60 watt. All'interno della confezione, oltre ovviamente al compressore, ecco qui questa è la mia mano, quindi come vedete è bello grande, e c'è il tubo ovviamente per gonfiare e qui tutti gli adattatori per palloni, auto, biciclette, eccetera. Molto gradita è stata una custodietta in, sembra pelle, ok, ovviamente non è pelle, è un materiale sintetico, quindi non dovrebbe rovinarsi come la pelle. Poi c'è il manuale di istruzioni in italiano e questo è il compressore. Allora, le istruzioni sono molto chiare, comunque col tasto sinistra si accende la luce, premendolo più volte si può utilizzare come luce di emergenza, ecco, e mentre con questo tasto si accende, quello di destra si accende, ed è possibile selezionare se l'auto e la pressione dell'auto e il tasto centrale come vedete si attiva il confiaggio. Ecco, poi c'è anche la possibilità di, ecco, di cambiare la pressione, ecco, aumentando, quindi regolando la pressione, quindi metto per esempio 2,40, nel momento in cui inizio a gonfiare lui si fermerà esattamente a quella pressione. Bene, la ricarica avviene tramite purtroppo cavetto proprietario e qui invece va infilato il tubo per gonfiaggio. Spero sia stata utile, ciao, alla prossima!